A Fano qual è la situazione? Per quanto riguarda la volkestime purtroppo la situazione è uguale in tutta Italia, ancora il governo non ha legiferato niente, non ha deciso niente. Fatto sta che l'Italia non è uguale al resto dell'Europa e quindi bisognerebbe far capire in primis all'Europa che la situazione italiana è nettamente differente dal resto d'Europa come concessioni, come tipologia di stabilimenti balneari. Quindi aspettiamo al più presto che il governo Meloni legiferi qualcosa anche per capire se andare avanti con gli investimenti soprattutto perché comunque le spiagge richiedono una grossa manutenzione, tutti gli anni c'è bisogno di investire su qualcosa, al turismo ce n'è poco e per loro dobbiamo investire perché grazie ai Fanesi, grazie a quelli che vengono tutti gli anni a Fano riusciamo ad andare avanti. Che cosa vi aspettate e che cosa pensate accadrà? Bella domanda questa, nel senso che io non penso che ci portino via le spiagge così dall'oggi al domani, però sicuramente ci saranno dei criteri da rispettare nei quali speriamo di rientrarci. Per quanto riguarda invece lo show però avete aderito? No, non abbiamo aderito perché sinceramente non è con un'ora di ombrelloni chiusi che si risolve il problema, è solo un disagio, soprattutto in questo periodo che è il periodo clou della stagione. Se si vuole fare uno show però bisogna fare un'azione molto più forte a Roma dove ci vede lo Stato e dove siamo tutti uniti perché comunque l'unione è importante. Un anno particolarmente difficile anche per le mucillaggini? Sì, purtroppo queste non ci hanno assolutamente aiutato, anche perché sono partite molto presto, già da fine giugno e quindi in agosto logicamente è il clou. Questa mattina per fortuna l'acqua è bella ma purtroppo sono tutte sotto, servirebbe una bella bora per dare una bella svoltata al mare. Però per le mucillaggini non ci possiamo fare niente, c'è poco da fare, ecco. È un problema che non ci voleva assolutamente visto anche il grosso caldo. Nicola che cosa ti aspetti? Mi aspetto, onestamente non so cosa aspettarmi perché arrivano voci da una parte, voci dall'altra, quindi onestamente non si sa nemmeno chi ascoltare al momento e preferisco tapparmi le orecchie, finire la stagione nel migliore dei modi e incrocio le dita, semplicemente. Quale pensi che sarebbe la soluzione migliore? Parlo per me, la soluzione ideologica secondo me, visto tutti i 35 anni della nostra famiglia che abbiamo investito in questa spiaggia, sarebbe una riconoscenza, tra virgolette, di una buona uscita oppure comunque sia un vantaggio nell'asta che ci dovrebbe essere o non ci dovrebbe essere, questo ancora non sappiamo. Non avete aderito allo sciopero, giusto? Assolutamente no, lo sciopero va a colpire solamente i clienti, cosa che penso danneggi il rapporto con i clienti, quindi assolutamente no. Le mucillaggini? Le mucillaggini rispetto alle altre spiagge ci dicono che da noi la situazione è un po' migliore, quindi onestamente c'è solamente un problemino nei primi 2-3 metri di riva, dove il piede sotto incontra un pochino di morbido, ma niente di che. Quindi a livello turistico funziona? A livello turistico siamo messi bene anche per quest'anno, quindi funziona tutto e non ci sono la mentere da parte mia.